ecco due viaggiatori appena arrivati a new york è in procinto di prendere un altro volo uno ha volato panam l'altro no con panam sia i voli internazionali che nazionali sono sotto lo stesso tetto così mentre c'è chi affannosamente arranca verso un altro terminal il passeggero panam calmo e tranquillo è già a pochi passi dalla sala d'imbarco fastidi e disguidi possono capitare a tutti non più a chi sa che panam è la sola compagnia aerea che offre un unico terminal per oltre 40 città degli stati uniti da milano o roma a new york primi a partire primi ad arrivare panam niente conta quanto l'esperienza